Interrotto a inizio anno a causa del lockdown, lunedì 5 ottobre prenderà via la nuova stagione di Primo Cittadino, il programma di FanoTV che da sei anni ospita i sindaci della provincia di Pesero e Urbino e non solo. Il protagonista della prima puntata sarà il sindaco di Pesero Matteo Ricci, con il quale parleremo dei risultati delle regionali, dell'avvio delle scuole con modalità del tutto nuove a causa delle norme anticontagio, ma anche di viabilità e dei lavori in corso o programmati nella città della musica e della bicicletta. Lunedì 12 poi arriverà nei nostri studi Massimo Seri, sindaco di Fano, che nei prossimi giorni potrebbe annunciare un rimpasto di giunta. Lunedì 19 invece sarà la volta di Stefano Aguzzi, primo cittadino di Colli al Metauro, che ha già escluso l'arrivo in comune di un commissario nel caso in cui il neo governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, dovesse proporgli un posto nella giunta regionale. L'appuntamento sarà sempre alle ore 21 circa, subito dopo il telegiornale, occhio alla notizia e missione salute, sempre gli stessi anche i numeri di riferimento 0721 86 14 33 per intervenire in diretta e porre una domanda ai sindaci o fare richieste, mentre al 338 49 68 250 potrete inviare un messaggio anche con WhatsApp per avanzare suggerimenti e segnalazioni.